Il concerto di Paganini l'ho suonato per la prima volta quando avevo 12 o 13 anni, credo 12. Posso dire di avere praticamente questa musica nel sangue. Sono cresciuta con la pasta, con la canzone. I primi ricordi della mia vita sono legati all'Italia. Un'interprete dotata di una tecnica straordinaria, tecnica che però non esibisce come fine a se stessa, ma la piega a fini musicali. La sua è un'interpretazione piuttosto italiana direi, nel senso che si rifà ai grandi maestri del bel canto contemporaneo di Paganini. Quindi direi che è un'interpretazione che risente di influenze di Rossini e di Bellini, come del resto questa musica è, perché è un po' quello il filone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.